Si sono formate lunghe code intorno alle 6 poco prima dell'alba lungo il passante di Mestre in direzione Milano all'altezza del comune di Preganziol dove un auto articolato ha sbandato perdendo sulla carreggiata il suo carico di acciaio, i rallentamenti tra l'allacciamento con la A57 e lo svincolo di Preganziol. Il traffico in A4 proveniente da Trieste è stato deviato sulla tangenziale di Mestre per evitare ulteriori incolonamenti. L'episodio non ha provocato feriti e non risultano altri veicoli coinvolti. Il mezzo pesante ha sbandato scontrando contro le barriere di sicurezza. Il personale di concessione autostradali venete è intervenuto sul posto a chiudere due corsie di marcia. Gli ausiliari della viabilità di CAV hanno fatto defluire il traffico sulla prima corsia e in quella di emergenza, ma le code sono arrivate fino a 3 chilometri mentre si è dato avvio alle operazioni di rimozione del materiale perso sull'asfalto e di pulizia del manto stradale così da ripristinare le condizioni di sicurezza lungo il passante.